E' un esperimento che dura già da quasi 4 anni, da 3 anni e mezzo abbondanti, dall'8 marzo 2018 e ha raggiunto la puntata numero 183 nel momento in cui lui ci copisi ha scritto l'articolo. Nel 1959 la Postola America lanciò i programmi in Special English, che era un inglese semplificato nel lessico e con una sintassi adatta a quanti apprendevano l'inglese. Un esperimento oggi confluito in un vasto impegno per lo studio dell'inglese americano e trasmissioni che tanti di noi...